Sarebbe stato un malore a stroncare il 26enne trovato senza vita alle prime luci dell'alba di venerdì accanto ad una panchina nei giardini del Porcinai a pochi passi dalla stazione di Arezzo. Le telecamere di video sorveglianza della zona hanno infatti ripreso quei drammatici attimi. Il giovane che arriva a piedi verso le 6.30 poi si siede, usa il cellulare e poco dopo si accascia e perde sensi. Dalle indagini non sarebbero immersi collegamenti con l'uso di sostanze stupefacenti né sul corpo sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Sul posto, dopo l'allarme lanciato da un passante, sono intervenuti sanitari e polizia di Stato. Subito è stata avviata un'indagine ed è stato disposto un accertamento medico-legale sul corpo che ha confermato la morte naturale. Potrebbe trattarsi di un ictus. Il giovane tunisino, noto alle forze dell'ordine senza fissa dimora, trascorreva le sue notti arraggiandosi in luoghi diversi. Sulla panchina, accanto alla quale è stato ritrovato il corpo senza vita, amici e conoscenti del 26enne hanno deposto fiori e messaggi.